Eccoci tornati in diretta per la seconda parte del nostro Tg Italia, la parte dedicata al nostro approfondimento. Come vi avevo anticipato parleremo di utero in affitto, maternità surrogata. Do subito il benvenuto alla nostra ospite in collegamento insieme a noi, Francesca Romana Poleggi. Buonasera, buongiorno. E buongiorno a te Francesca. Grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Tu sei membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Pro Vita e Famiglie. Allora Francesca, un approfondimento sulla maternità surrogata, un argomento di cui si sta discutendo tanto negli ultimi mesi ma soprattutto negli ultimi giorni. Perché arriva dalla Corte Europea dei Diritti Umani la decisione di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi contro l'Italia presentati da alcune coppie omosessuali e anche da una coppia in realtà di eterosessuali in merito al rifiuto del nostro Paese di poter trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini che sono nati utilizzando la maternità surrogata. In effetti ecco dopo la procura di Padova anche la procura di Milano la magistratura ha riportato un po' diciamo dobbiamo utilizzare il termine la legalità nelle anagrafi italiane rispetto a quella appunto che è la norma su cui si sta lavorando. Allora prima di analizzare questo cercare di capire anche a livello normativo legale dov'è che effettivamente si vuole arrivare ricordiamo che è stato dichiarato questo un reato universale. Facciamo un passo indietro Francesca cerchiamo di capire di spiegare anche a chi ci segue da casa che cos'è l'utero in affitto la maternità surrogata. Allora è molto semplice è la compravendita di un bambino diciamolo in modo molto brutale. Oggi siamo tutti ecologisti e qui con l'utero in affitto andiamo a violentare la natura in molti modi. Dunque una persona una coppia e poi se mi consente io vorrei tirare il discorso sulle coppie eterosessuali e lasciar perdere un attimo le coppie eterosessuali. Che sono tra l'altro in percentuale la percentuale maggiore che richiede poi questo tipo di procreazione. Se non erro dovrebbe essere l'85% delle coppie eterosessuali, solo una minoranza e il 15% riguarda le coppie eterosessuali. Allora se mi consente allora facciamo subito questa piccola divagazione. Un tale Gary Powell che è un esponente di spicco della comunità gay ma non si riconosce nella lobby LGBTQIA eccetera per questo è molto in viso e abbastanza massacrato mediaticamente ma lui è un intellettuale ripeto di spicco. Lui ha più volte denunciato il fatto che la comunità gay e le persone omosessuali si stanno facendo strumentalizzare dal grande business che c'è dietro l'utero in affitto perché parliamo di un giro d'affari di tipo 30 miliardi l'anno numeri che io non ricordo mai a memoria perché per me sono numeri che non riesco a pensare e le agenzie intermediari, le agenzie che fanno le cliniche per la fertilità sono riuscite a mandare avanti i gay perché sono una minoranza, perché c'è l'omofobia, perché sono discriminati e fanno fare a loro una battaglia che in realtà alla maggioranza della comunità gay non interessa perché quelli che cercano un figlio sono veramente una minoranza di una minoranza e invece chi fa i soldi, ripeto, sono le cliniche e l'affare, diciamo così, è usato, la pratica è usata in grande maggioranza, come tu hai detto, dalle coppie etero. Quindi prima c'è da togliere un pochino questa benda dagli occhi forse di tanti coppie omosessuali che magari hanno avuto il bambino in questo modo, che giustamente magari protestano e fanno eccetera però sappiano, almeno a detta di Gary Powell, che sono strumentalizzati. Prima cosa. Allora cosa succede? Torniamo alla domanda iniziale. Che cos'è l'utero in affitto? Sì, una persona ricca va cercando una donna disposta a farsi impiantare un embrione non suo con gravi conseguenze fisiche che poi diremo se c'è tempo e poi quando nasce, farta avanti la gravidanza e quando nasce il bambino lo cede a questi che io mi rifiuto di chiamare genitori di intenzione, io chiamo compratori o committenti. Queste persone di solito usano ovuli e sperma, cioè gameti comprati anche quelli al mercato, possono anche usare i propri, però mentre è molto facile, diciamo così, usare lo sperma perché non entriamo nel dettaglio, ma insomma è facile donare o cedere sperma, viceversa gli ovuli comportano, il prelevo dell'ovulo dal corpo di una donna comportano dei problemi abbastanza grossi perché l'ovaio della donna, che è grande come una mandorla circa, quando viene bombardato dagli ormoni per poter produrre tanti ovuli che poi vengono prelevati tutti insieme, ovviamente non se ne prende una volta, diventa grosso come un melone. Allora non c'è bisogno. Ecco diciamo che le persone, i soggetti coinvolti, come stavi giustamente anche tu analizzando, sarebbero la madre surrogante, che cioè colei che dunque presta il proprio corpo. La donna che partorisce il bambino, esatto. I committenti che sarebbero i genitori intenzionali. L'eventuale venditrice dell'ovulo, perché dicevi appunto si può ricorrere. È quasi sempre, scusa, mi permetto, non si usa mai, o si è usato in passato qualche volta, l'ovulo della donna che porta avanti la gravidanza, perché è impossibile che quella non si affezioni al bambino, se è anche figlio suo biologicamente. In realtà diciamo che si affeziona a prescindere poi, anche se l'ovulo, perché è uno dei punti più criticati, oggetto anche di quella che vuole essere questa normativa, questa legge che intende dunque dichiarare come reato universale, è che a prescindere dall'ovulo, che sia il suo o meno, comunque una donna subisce un trauma, che è psicologico oltre che fisico, perché comunque sono nove mesi di gestazione e alla termine di questi nove mesi, quindi nove mesi in cui si porta in grembo il feto, il bambino, che in frattempo diventa mio bambino, poi se ne deve separare e quindi questo può rappresentare una violenza sia fisica che psicologica. Ecco, e su questo diciamo che è il tema principale su cui si sta tanto dibattendo, considerando come, insomma, poi spiegavi anche tu Francesca, che si tratta poi di una compravendita vera e propria e qua si parla proprio di diritti umani, insomma. Eh certo, ma volevo fare una precisazione, che non è solo il trauma di dover cedere un bambino che esce dal mio grembo e doverlo dar via, ma è passare nove mesi di gravidanza con, a volte nei paesi diciamo civili, tipo la California, la clinica fornisce addirittura il supporto psicologico, no? Per cui ci sono degli psicologi che stanno lì nove mesi a dire questo non è tuo figlio, questo non è tuo figlio, non è tuo figlio. Questo provoca uno stress alla madre che finisce in scariche di cortisolo al bambino e il bambino ne subisce gravi danni psico-neurologici. Ma questo è un altro discorso ancora. La donna poi in quei nove mesi non è che può condurre una vita normale, perché lei è costretta a fare tutto quello che è previsto dal contratto e questo vale sia quando lei è pagata nella cosiddetta l'utero in affitto commerciale vero e proprio, ma anche in quei casi dove i paesi dopo l'Inghilterra, dove c'è solo un rimborso, un congruo rimborso spese, che alla fine anche quello è un pagamento, ma insomma poniamo che esista qualcuno che lo fa veramente gratuitamente e abbiamo le testimonianze di queste donne che ci sono passate, queste vivono nove mesi che non possono fare assolutamente niente di quello che gli pare. Addirittura non ti possono fare la tinta, non possono mangiare la carne. Cioè tutto quello che chiaramente fa una donna che è in stato di gravidanza, perché serve per tutelare poi la salute del bambino che è in Granbo. Ecco, Francesca, questo avviene, sappiamo, soprattutto negli Stati Uniti. Sappiamo come chi sceglie, accetta di diventare dunque una madre surrogante lo fa veramente per una questione economica. Accennavi all'inizio a quello che è il giro d'affari dietro la maternità surrogata, dietro l'utore in affitto. Effettivamente queste donne ricevono un compenso molto importante, soprattutto negli Stati Uniti. Ecco, diciamo che anche su questo si punta molto, proprio per cercare di non dare ulteriormente dunque modo e non ritenere assolutamente legale una pratica che di fatto mira a ledere anche quella che è la salute di una donna. Sicuramente. Lo sapete che ci sono donne che muoiono per l'utore in affitto? Perché la gravidanza che nasce e cresce con un bombardamento ormonale iniziale perché il corpo della donna non è facile che accetti un embrione che non ha niente a che fare biologicamente con lei. Quindi per poterlo predisporre bisogna fargli un bombardamento ormonale che non è esente da conseguenze. Spieghiamo questo aspetto Francesca perché è interessante anche rispetto all'analisi iniziale che facevi sul fatto che la maggior parte delle persone che ricorre alla maternità surrogata sono coppie eterosessuali. Quindi perché andare a dare il proprio embrione? Perché chiaramente una coppia fatta da un uomo e una donna vuole che siano i loro semi che ci sia quindi la loro parte biologica all'interno del corpo della donna che viene scelta per la maternità surrogata. Per questo avviene proprio l'ovulo viene impiantato all'interno dell'utero della donna, della madre surrogante. Allora, anzitutto io forse ho letto da qualche parte che qualche attrice ha ricorsa all'utero in affitto o qualcuno l'ha fatto per non rovinarsi la linea con una gravidanza ma mi voglio pensare che questo non sia vero e non sia un motivo reale. Voglio pensare che sia perché ci sono problemi di infertilità. E allora se ci sono problemi di infertilità gli ovuli e magari lo sperma della coppia interessata non vanno bene. Non solo ma abbiamo detto che per il prelievo degli ovuli si deve fare una procedura invasiva abbastanza rischiosa e non scevra di conseguenze tra cui il pericolo di morte per sindrome da iperstimulazione ovarica per cui tendenzialmente l'ovulo si compra che si fa molto prima di solito. Comunque quando questo l'ovulo e lo spermatozoo vengono messi su un vetrino in una capsula di petri per la fecondazione non vengono la fecondazione non avviene nel grembo della donna. viene fatto l'embrione e quindi se ne buttano via un sacco perché viene fatta la selezione pre impianto. Ora ricordiamoci che un embrione è un bambino è inutile che ci stiamo a nascondere dietro il dito del grumo di cellule. Quello ci credevano forse le femministe negli anni 60 ma ormai la scienza ha dimostrato che quello è un bambino. Nessuno dice io sono incinta di un embrione. Dice io aspetto un bambino. Allora si buttano via un sacco di bambini e poi di quelli che se ne impiantano appunto ne attecchisce diciamo ne nascono uno due su dieci più o meno. Dopodiché tutte le possibili disgrazie tutte le possibili cose che possono accadere in una gravidanza naturale perché può succedere anche in una gravidanza naturale che ci siano complicazioni, problemi per la madre, per il bambino eccetera sono tutte moltiplicate per dieci con l'utero in affitto perché non è una gravidanza naturale e i dati lo dimostrano che avvengono pre-inclasia insomma un sacco di cose. Io quando sono medico adesso non vi voglio non mi voglio cimentare in parole che non mi appartengono ma avvengono un sacco di guai alla madre e al bambino quando nasce per cui le persone che praticano questa che sottostanno a questa pratica rischiano anche la salute. Ripeto ci sono madri surrogate morte di cui non si è interessato assolutamente nessuno. Se una madre surrogata ha dei problemi di salute che non riguardano il bambino faccio un esempio una diastasi dei muscoli della parete addominale le vene varicose per dire cose non gravi ma anche se fossero più gravi tipo pressione o altro se sono cose che non riguardano direttamente la salute del bambino la clinica non le cura si devono curare da sole con i soldi loro se qualcuno interessa e questo è dimostrato basta leggere i contratti che queste donne firmano e li firmano di solito perché hanno bisogno di soldi. Ma io vorrei aggiungere una cosa molto importante soprattutto nei paesi come l'America dove comunque la povertà totale come poteva essere in India in Thailandia quando era lì il mercato più florido poteva essere veramente stringente cioè le donne potrebbero essere veramente costrette dal bisogno di mangiare in America molto spesso anche quelle che si fanno pagare lo fanno con uno spirito altruistico perché le donne sono inclini proprio nel DNA della donna cioè è incline al aiutare il prossimo mettiamola così e succede che questa mercato dell'utero in affitto abusa di questa predisposizione alla donna ad aiutare io ho letto la testimonianza di una inglese che l'ha fatto quasi gratuitamente che è finita con sindrome da stress post traumatica non so per quanto tempo ancora ci stava combattendo dopo il parto di questi bambini perché poi i bambini la non va sempre bene i bambini nascono prematuri o hanno dei problemi e poi i compratori che hanno comprato e hanno pagato per un bambino bello biondo con gli occhi azzurri se non viene come vogliono loro quel bambino lo lasciano lì se il bambino ha qualche difetti lo lasciano lì cioè è venuto sul giornale un paio di giorni fa di una coppia che siccome aveva chiesto un maschio e invece non si sono accorti durante la gravidanza ed è nata una femmina hanno chiesto risarcimento danni alla clinica e mostra bambina non si sa bene che fine sa ma diciamo che insomma purtroppo ecco c'è voglio dire questi ci sono questi aspetti che sono reali e concreti francesca abbiamo ancora pochissimi minuti a nostra disposizione io dicevo inizialmente presentandoti che fai parte del consiglio direttivo dell'associazione provita e famiglia un'associazione che hai fondato insieme ad altri collaboratori nel 2000 a toni brandi esatto nel 2012 ecco visto dal vostro sito che avete lanciato proprio una petizione per fermare per fermare proprio questo mercato come tu stessa l'hai definito dell'utore in affitto noi riteniamo che sia importante che la gente comune firmi questa petizione perché il parlamento che sta valutando questa questione del reato universale deve sentire che la gente è con loro cioè i politici devo sentirsi un po la pressione addosso da parte della gente che bene o male li ha eletti o li potrà eleggere o potranno rieleggerli quindi credo che sia fondamentale che la società civile faccia sentire la sua la sua voce su questo questo che un filosofo come cacciari che non è certamente un provita come noi ci catalogano un po come conservatori intransigenti altre cose lui ha definito un inferno massimo cacciari quindi non siamo noi che particolarmente diciamo che ma poi questo tema diciamo che è un tema della linea del governo però tendenzialmente ecco ci sono come se c'è come sempre quando si tratta di temi come questi che poi vengono chiaramente riportati sul piano politico c'è chi è d'accordo chi no però è anche vero che effettivamente ci sono diverse posizioni anche da parte dell'opposizione che al momento è al governo quindi ecco non è un coro sicuramente unanime però gli interventi sono stati diversi tra loro sia a sostegno che contro ma soprattutto una vera femminista non può essere favorevole all'utero in affitto né gratuito né a pagamento e una persona umana non dovrebbe essere favorevole all'utero in affitto perché i bambini non si comprano e non si vendono e non se scusate non si regalano non sono cose ti ringrazio per essere stata con noi purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione dobbiamo chiudere il nostro programma abbiamo la pubblicità ma grazie davvero per grazie a voi grazie a voi arrivederci salutiamo ancora ringraziamo francesca romana poleggi dell'associazione provita e famiglia termina qui dunque questa edizione del nostro tg italia vi ringrazio per essere stati con noi continuate a seguirci vi ricordo che stiamo monitorando tutti gli aggiornamenti che ci arrivano dalla russia e allora non mi resta che augurarvi buon proseguimento con la nostra informazione grazie a tutti